Con la firma di un protocollo d'intesa nella sede della Giunta regionale è arrivato il definitivo via libera al progetto di riqualificazione della ex cava di Nerti Cariola a Castagneto Carducci. Grazie a un investimento di 15 milioni di euro la cava sarà trasformata dalla società proprietaria, la Dievole S.P.A., in una nuova cantina vinicola di 5.000 metri quadrati all'interno della tenuta alle colonne nel pieno del Bulgari Dock. Si tratta ancora della capacità della regione di attrarre investimenti, qui siamo di fronte ad un imprenditore che nell'arco di pochi anni ha investito 120 milioni di euro nelle vigne per produrre vino in Toscana, nel Chianti Classico, anche a Montalcino e poi a Bulgari. Quindi un numero importante di ettari che saranno messi a produzione e da qui un investimento anche di natura non solo economica ma anche in prospettiva di lavoro per il nostro territorio. È un'occasione di grande collaborazione con la regione toscana e con un imprenditore importante come Alejandro Burgheroni. Quindi un lavoro in sinergia che siamo certi porterà grandi risultati non solo per Castagneto Carducci ma per la Toscana nel mondo. Di fatto la cava rappresenta la localizzazione meno invasiva per la nuova cantina grazie a un progetto che integra profondamente la nuova struttura nel contesto naturale. La cava entra a far parte strutturale del progetto della cantina quindi avremo due terzi delle pareti che sono parte strutturale del progetto e per quanto possibile il microclima che la roccia e la cava e il contesto ambientale che è in grado di restituire all'ambiente che andremo a costruire sarà uno dei principali attori del progetto quindi l'integrazione di un microclima con le necessità particolari delle lavorazioni del vino.